salve buongiorno e da parecchio non ci sentivamo vero e vabbè tra un blocco pandemico e altre cose preferito non tediarvi oggi vi voglio parlare della scuola mi viene da ridere se non ci sarebbe da piangere sono arrivati banchi nuovi avete visto ok magari quelle con le rotelle per fare l'autoscontro così il bidello sta fuori in mezzo al corridoio a vendere i gettoni per l'autoscontro ma che stiamo a fare anni e anni di ministri per l'istruzione non hanno mai risolto il problema della scuola in italia per non dire assurdo ci sono strutture fatiscenti che ti cadono addosso il problema sono i banchi il problema di oggi è il covid i banchi nuovi i banchi vecchi ancora nuove che li ho visti buttati dalla finestra potrebbero essere riciclati riutilizzati in aule più grandi no bisogna buttare perché qualcuno ci deve guadagnare con i nuovi banchi è inutile stare a dire ma ma che stai no la realtà è questa qui col covid la gente si è arricchita i soliti i soliti si sono arricchiti in molti poi non parliamo di chi è rimasto chiuso in casa perché c'era il blocco pandemico voi lo chiamate lockdown io lo chiamo blocco pandemico per capirci meglio credevo che non ci sarebbero state le ferie quest'anno non perché non voglio che la gente vado in ferie per carità tutti possono andare in ferie però però bisognava recuperare il tempo perso no siamo andati in ferie vabbè ognuno può andare in ferie ma porca miseria dovete andare in ferie per andarvi ad infettare cioè non siamo stati due mesi chiusi in casa come topi agli arresti a domicilio e poi vi andate ad infettare in ferie e adesso adesso abbiamo i problemi della scuola sapete cosa vuol dire c'è quasi rischia l'infezione peggiore di quella che è passata sì non mi venite a dire che il covid è un'invenzione non esiste io alle chiacchiera di facebook non ci credo io vedo la realtà io vedo la gente che è morta si avevano dei problemi pregressi se non ci fosse stato il covid con tutto il problema pregresso quella persona sopravviveva quindi la causa finale è il covid anzi la causa iniziale è la diminuzione e il disastro della sanità in italia la diminuzione dei posti letto a diminuzione le assunzioni quindi che stiamo a dire la scuola in italia è rovinata sapete cosa vuol dire che al sud gli studenti a cominciare dalla scuola dall'infanzia devono portarsi la carta igienica da casa devono portarsi la bottiglia dell'acqua da casa perché magari a scuola fino all'ora di mensa non c'è dell'acqua buona da bere sapete cosa vuol dire questo per non parlare tutto il resto dell'altro materiale sapete cosa vuol dire che gli insegnanti delle scuole del sud devono rimetterci di tasca loro soldi per comprare materiale che a scuola non c'è perché non arrivano i soldi al sud i soldi arrivano solo al nord eppure il motore trainante della nazione è il sud mettetevelo bene in testa ma non ve ne venite con la storia ecco il referendum sì il referendum io voterò sì al referendum perché non voglio più vedere dei mangia pane a tradimento di una dittatura oligarica questa è una dittatura oligarica che ha a favore del nord non voglio più vedere quei mangia pane a tradimento arricchirsi alle mie spalle è chiaro allora cominciamo a mandarli a casa lasciate stare tutte le chiacchiere che hanno tutte le chiacchiere che dicono sul no è perché vogliono che le cose non cambino anche alcuni di destra per dire salvini un a caso a lui non piace che venga il sì a lui piacerebbe che venga il no perché in caso di vittoria del sì è un grido di rabbia del popolo perché non vi sopporta più e loro dobbiamo cambiare la legge elettorale dobbiamo fare un bel po di cambiamenti se vince il no il popolo continua a dormire e a morire di fame e loro si arricchiscono va bene così a me non piace così quindi a voi non lo so buona giornata grazie a tutti